Allo stand di ImageLine con Paolo De Castro per un saluto ai partecipanti del convegno sull'agricoltura digitale. Agricoltura digitale è futuro, interessante questo studio che avete portato avanti con gli amici di Nomis, ma sicuramente oggi l'agricoltura e soprattutto l'agricoltura di precisione guarda il digitale con molta attenzione. Si tratta di produrre di più con meno risorse, si tratta di utilizzare bene le risorse naturali, di avere un approccio sostenibile non per un cliché ma per una necessità tecnica economica. L'agricoltura digitale è un orizzonte nuovo, potremmo risparmiare mezzi tecnici, potremmo consumare e utilizzare meno chimica e magari riuscire anche a essere più efficaci nella lotta alle malattie delle piante e nella gestione agronomica del terreno. È una nuova sfida, l'Europa segue con molta attenzione questa nuova frontiera dell'agricoltura, quindi in bocca al lupo a agricoltura digitale e in bocca al lupo a voi. Dal tuo punto di vista questa agricoltura digitale deve gestire sempre un numero maggiore di dati, questi dati che sono in parte di proprietà dell'agricoltore, in parte di proprietà del produttore delle macchine, in parte di proprietà di chi gli dà i software, ma a livello normativo cosa si sta facendo in questa specifica problematica? Bisogna combinare bene assieme il problema di privacy con un problema di necessità di disponibilità di dati veri, di dati concreti. Purtroppo le stime, le statistiche, anche le proiezioni che noi facciamo a volte si basano su fonti di dati che non sempre sono veritieri. Quindi è molto importante la qualità dei dati e su questo credo che la normativa debba riuscire a contemporare il problema della privacy. Non è sempre semplice perché oggi nell'era digitale, appunto nell'era della comunicazione, diventa sempre più difficile riuscire a prendere l'informazione corretta. Siamo abituati a una risposta immediata con questi social che a volte si trascura la fonte, si trascura la bontà dell'informazione. Però la grande sfida è questa e per cui mi auguro che anche il legislatore, che anche noi, sia il Parlamento europeo, che come consiglio si possa fare un passo avanti nella giusta direzione. Quindi non solo dato ma autorevolezza del dato. Assolutamente, anzi direi che la prima parte è ancora più importante, che poi la gestione, oggi le tecnologie ci aiutano moltissimo, ma il problema è la fonte, riuscire ad avere il dato giusto e corretto.